è morto il serpente più grande del mondo si chiamava ana giulia era il serpente più grande del nostro pianeta avvistato pensate in brasile precisamente nella foresta amazzonica si tratta dell'anaconda gigante morta diversi giorni fa grazie ad un team che l'ha scoperto gli scienziati il serpente si trovava in amazonia era chiamato ana giulia è stato trovato nel fiume formoso nella parte rurale di bonito precisamente nello stato del mato grosso do sul nella parte meridionale del brasile 35 giorni fa di tempo 7 metri di lunghezza 200 kg peso testa enorme come quella di una persona di un essere umano insomma cosa ha provocato la morte secondo freak funk la causa della morte ancora incerta non si sa probabilmente un colpo d'arma da fuoco anche perché sembra che il serpente stava ancora abbastanza bene nonostante il tempo meglio gli anni che aveva grazie a tutti ana giulia riposi in pace amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti